Novembre 2014, Fermana, Alma Juventus Fano 1 a 3, da lì inizia la svolta per il campionato epocale dell'Alma Juventus Fano. Novembre 2015, Stadio Mancini di Fano, Alma Juventus Fano-Fermana. Si spera che da questa partita possa tornare l'Alma dello scorso campionato. Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Sergio Catalani che vi parla dallo Stadio Mancini di Fano. Poco pubblico al Mancini, una cinquantina di tifosi anche da fermo, forse il MotoGP ha tolto qualcosa. Il tiro intanto di Degano, attenzione Ginestra non trattiene, è pericolosa la fermana. Parte Degano, il tiro, Ginestra si allunga in corner, c'è Camilloni molto bene, Camilloni mette nel mezzo, non arriva per un pelo, Alma vicina al vantaggio. Il mister Alessandini, Degano in porta, palla che termina a lato. Fischio del pubblico a Fermano, il traversone, c'è Gucci di testa! Comicioli, attenzione a Valdessi, il tiro, il palo! Guadagna una rimessa laterale proprio sotto il settore dei tifosi ospiti. Intanto c'è Gucci di testa, Gucci! Gucci non riesce a spingere in rete. Chiacchiarelli, vediamo, c'è Gucci, 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 Gucci! Yotti punta a me, Yotti, attenzione Ginestra, salva il risultato. Ben oltre la sufficienza della sua prestazione, Lunardini intanto c'è il colpo di testa, Gucci, la palla resta lì, il tiro! Lunardini verso Gucci, c'è Sivilla che va giù, Sivilla, è Sivilla e tira rigore! E questo è rigore! Peccato davvero, l'arma non riesce a sfondare contro la Fermano. Un'arma tutto cuore. Fischio del direttore di gara, tutto cuore e anche, si è visto anche qualcosa, soprattutto nel secondo tempo, di buono, non è l'arma dello scorso campionato, ma sicuramente passi avanti.